Se hanno aggiunto l'alga, e ci sono tanti altri tipi di pesci, vuol dire che presto potremo craftare e mangiare il sushi? Su Minecraft? No, sarebbe una figata assurda! Oh mio Dio, speriamo che hanno aggiunto il sushi, aspettate, hanno aggiunto il sushi... no... Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Oggi, come vedete, mi trovo nell'1.13 pre-2 snapshot, perché ancora non è uscita l'1.13, però è possibile giocare con tutte le modifiche che hanno fatto su Minecraft. E ho pensato bene, perché non modificare il mio mondo da 1.12.2, quindi il mondo della Candy Craft, che conoscete tutti quanti ormai, perché quella serie la adorate e guardate ogni giorno tutti gli episodi. Quindi dicevo, perché non aggiornarla dall'1.12.2 all'1.13? Ora io non so se si può fare effettivamente questa cosa, spero che non vada a causare qualche bug, qualche problema nel mondo, quindi proviamo 3, 2, 1, boom! Oh mio Dio, ok, aspetta, backup and load, I know what I'm doing, I know what I'm doing, so cosa sto facendo, perché ho già fatto un backup del mio mondo, tranquilli! Anche se ci dovesse essere qualche problema, che si va a bagare tutto quanto, io ho già il mondo salvato, quindi mal che va, torno indietro nel tempo e andiamo di nuovo nell'1.12.2. Ma adesso sono veramente curioso, questo non è proprio un episodio della Candy Craft ragazzi, perché non andrò a fare quello che mi avete consigliato nei commenti, semplicemente sono molto curioso di vedere l'1.13 perché non l'ho mai vista e ci sta mettendo veramente molto tempo, siamo ancora al 3% e il mio computer è molto veloce, il mio computer è molto molto veloce. Il fatto che ci stiamo mettendo così tanto tempo è preoccupante, cosa sta succedendo? C'è qualche problema? Non funziona? 11, 19, ok, ora sta partendo, si ha messo in moto finalmente la macchina, molto bene, ok, dovremmo poter entrare nella Candy Craft, traranno molto ragazzi, come vi dicevo non ho la più pallida idea di cosa aspettarmi, perché non ho guardato gli update dell'1.13, so che hanno cambiato il mare, che è fissimo adesso, è veramente molto molto bello, ma non so nient'altro. Ok, eccoci, siamo nell'1.13 ed è tutto mezzo buggato, aspettate allora, settings, settings full screen, distance mettiamo tipo un 14, ora magari ogni tanto vedrete qualche piccola laggata per il semplice fatto che non sto utilizzando l'Optifine, quindi sarà un pochettino diverso ragazzi, non avendo l'Optifine, ma fino ad ora ragazzi mi sembra che tutto quanto sia nella norma. Ora in questo episodio credo di andare in game mode, per il semplice fatto che voglio vedere tutte le nuove cose dell'1.13, ma tranquilli, non mi prenderò nulla, cioè nel senso prenderò le cose, ma poi le butterò di nuovo, perché ovviamente se no sarebbe, mi avvantaggerei troppo, ecco. Allora, fino ad ora, primo impatto, sembra che non sia cambiato assolutamente nulla, quindi la mia Candy Craft sembra essere restata la stessa di sempre, non mi sembra di vedere alcun bug, non mi sembra di vedere alcun problema da nessuna parte. Ok, non ho l'Auto Jump, molto bene, la cassa di Billy è qua, oh, c'è anche l'ultima costruzione che ho fatto, ovvero il campo di calcio, vi ricordate ragazzi? Ci ho messo una vita a costruire quel campo di calcio e come verrete ragazzi è bello proprio come era nell'1.12. Ora, i cambiamenti, wow, oh mio Dio, guardate quanto è bella l'acqua, l'acqua è molto molto più bella, oh mio Dio ed è anche più chiara e posso nuotare, posso finalmente nuotare ragazzi nella piscina che ho costruito a Billy. Quasi quasi la faccio più grande ora la piscina, così posso nuotare per più tempo. Mi piacerebbe tantissimo potermi sedere qua e tipo, non lo so, rilassarmi nella mia jacuzzi, mettermi qua, seduto, però ancora Minecraft non ti permette di fare queste cose, quindi mannaggia te Minecraft. Eh, ok, andiamo a vedere se c'è Viserion, Viserion è là, tutto bene, ok, si chiama ancora Viserion? Ok, sì, si chiama Viserion, dovevo controllare ragazzi, che volete? Qua abbiamo il parco giochi di Billy, come vedete, che abbiamo costruito qualche episodio fa e vi è piaciuto veramente tantissimo. Poi c'abbiamo l'isola delle Bedwars, l'Elmetto, ok, c'è tutto, sembrerebbe esserci veramente tutto quanto. E soprattutto, cosa molto importante ragazzi, essendo un nuovo mondo, 1.13 non più 1.12, visto che io ho iniziato questo mondo all'incirca un anno fa, perché credo di averlo iniziato tipo a luglio, ecco, dovrebbe, sì, più o meno credo di aver iniziato la Candy Craft a luglio, e ho fatto soltanto 20, 28, credo 28, 28 episodi, oh mio Dio faccio schifo, ne avrei dovuti fare di più probabilmente in un anno, però non importa, ci siamo divertiti e ci siamo continuando a divertire in questo modo. Dicevo, abbiamo notato tutti quanti che nel mondo 1.12.2 accadevano tantissime cose strane, come per esempio, Herobrine che appariva da un momento all'altro, croci per terra, mostri random che non morivano, fuoco che bruciava le mie costruzioni, hanno bruciato l'Elmetto in ferro e hanno bruciato anche il ponte, tante cose veramente bizzarre e particolari, e quella cosa, che cos'è? Non mi sono mai accorto di quella costruzione. Dicevo, tante cose bizzarre e particolari che spero non ci siano più adesso nell'1.13, quindi il mio mondo dovrebbe essersi sistemato adesso, che cavolo è questa costruzione? Ma è una cosa dell'1.13, ragazzi, o c'era anche prima, secondo voi? Non lo so, perché io non ho mai visto una roba del genere. Quindi, come vi dicevo, spero che tutti quei problemi che avevo io nel mondo precedente, nell'1.12, si siano sistemati, quindi niente più bug, niente più croci random per terra, niente più mostri baggati, eccetera, eccetera. Guardate quanto è bella l'acqua, ragazzi, l'acqua è vera. Oh, c'è il tonno! C'è il tonno! No, aspetta, è un tonno o un salmone? Non lo so, credo sia un salmone. Proviamo a ucciderne uno, vediamo che tipo di pesce mi dà. Ok, l'abbiamo ucciso e non mi ha droppato, ah no, me l'ha dato, è salmone. Ok, abbiamo un bel salmone, che bello! Guardate quanto è bello nuotare nell'1.13, ragazzi, è veramente bellissimo. Sono contento che hanno fatto questo update, hanno veramente migliorato di tantissimo Minecraft. E tra non molto, ragazzi, andremo in game mode, proprio per vedere tutte le novità, tutte le cose strane che hanno giunto nell'1.13, perché, come vi dicevo, io non mi sono assolutamente informato sulle novità, appunto, dell'1.13 perché volevo farci un video, appunto, con la mia primissima reazione su tutte le novità. So che hanno aggiunto le tartarughe, l'elmo delle tartarughe, e che hanno cambiato i mari, i fondali marini. Tutto qua, non so nient'altro e spero che ci sia qualcos'altro da vedere. Allora, andiamo subito a casa a dormire adesso perché si sta facendo notte e non voglio assolutamente rischiare di morire qua, perché, chissà, magari poi si bug a qualcosa. Dobbiamo provare anche ad andare nel Nether per vedere se è cambiato qualcosina, visto che comunque c'è un bellissimo portale, come vedete là sotto. Molti di voi non lo sanno, infatti spesso mi scrivono nei commenti che andrà a fare il portale del Nether. Ragazzi, io il portale del Nether l'ho fatto quasi nei primissimi episodi, ma prima di tutto, cosa super importante dobbiamo controllare, che l'elmetto, il sacro elmetto in ferro, stia ancora bene e che sia al suo posto, perché se qualcuno l'ha rubato io mi arrabbio tantissimo. Mi arrabbio proprio tanto, tanto, tanto. Allora, qua abbiamo la stanza degli iscritti, non è cambiato assolutamente nulla, molto bene, sarà meglio che l'elmetto sia lì, sì, 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 proprio sarà meglio per tutti. Ok, l'elmetto è ancora lì, molto bene, non è cambiato di una virgola, sei sempre bellissimo, affascinante, è super bello e luminoso, ok, fantastico. E adesso direi, ragazzi, di andare nel Nether. Tra l'altro, se mi sentite con la voce un po' diversa, l'ho già spiegato in qualche video fa, non so sinceramente quando uscirà questo video, comunque è perché sono molto raffreddato, penso che lo possiate sentire tutti quanti, ho un mal di gola assurdo e quindi si sente che la mia voce è effettivamente diversa. Allora, vediamo un pochettino cosa c'è all'interno del Nether. Si nasconderà qualcosa di pauroso e di spettacolare o sarà sempre lo stesso Nether dell'1.12? Secondo me nel Nether non è cambiato assolutamente nulla, ma adesso lo scopriremo insieme, ragazzi, perché ovviamente dobbiamo entrarci almeno una volta. Vediamo, 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 ok, non si vede nulla. Oh, c'è un Pigman, salve signor Pigman, cosa ci fa là dentro? Vuole per caso andare a casa mia? Io glielo proibisco, ora la spingo via. No, sono rientrato a casa, mannaggia. Eccoci nel Nether, ragazzi, sembra non essere cambiato nulla. L'unica cosa che mi sembra essere cambiato è il movimento del Pigman. Mi sembra più fluido, poi non so se è una mia impressione, ragazzi, ma mi dà l'impressione che si muovono in modo un pochettino più naturale gli zombie. Forse è un'impressione mia. Sì, sono abbastanza sicuro che sia un'impressione mia. Ovviamente non avendo l'Optifind non possiamo vedere troppo distante, troppo lontano, ma... Oh, no, 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 senti tu un Gas? No, 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 no. Signor Gas, si faccia gli affari suoi, io me le torno a casa mia. A me non piace, ragazzi, stare nel Nether. No, se questo mi rompe il portale, ragazzi, sono fregato. Allora, diamo una bella occhiata anche al porto e poi andiamo in game mode a vedere tutte le novità fighissime dell'1.13. Ok, qua c'è il nostro porto, con l'acqua bellissima, chiara. Oh, mio Dio, sono proprio contento che hanno cambiato, ragazzi, l'acqua. Ah, dobbiamo mettere l'Oland prima, ok. Ora, game mode, creative. Ok, perfetto, siamo in creative, ragazzi, e adesso andremo a vedere tutte le novità, tutte le figate dell'1.13, sperando che ce ne siano tante. Quindi, nel search item, ragazzi, fino ad ora mi sembra che tutto sia uguale, tranne questo, cosa? Oh, mio Dio, non ci posso credere. Hanno aggiunto il cetriolo di mare? Ma, ma, ma cosa? Oh, mio Dio! Oh, mio Dio, è un vero cetriolo di mare. Ma cosa fa? Cresce, eh? Credo cresca. C'ha lo stesso identico suono della spugna. Questa cosa non mi piace, dovrebbero cambiarla, secondo me. E si può mettere sott'acqua. Oh, mio Dio! Ma questo diventerà adulto, per caso, poi? Inizierà a crescere e diventare gigante? Me lo auguro, sinceramente. Comunque, togliamolo, ragazzi, perché non voglio assolutamente avvantaggiarmi, come vi ho già detto. Quindi, prima cosa nuova, il cetriolo di mare. I colori mi sembrano gli stessi, forse un pochettino più accesi. Non ne sono sicuro. No, forse no, forse sono gli stessi identici dell'1.12. Hanno aggiunto una spruce trapdoor, credo. Hanno aggiunto anche... Sì, sì, questi sono tutti nuovi. No, questi sono per forza tutti nuovi, perché io non li ho mai visti, quindi devono essere nuovi per forza all'1.13. Poi, poi, ok, tantissimi bottoni, molto bene, gli hopper è tutto uguale. Fino ad ora è tutto uguale, 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 uguale. Ok, oh, cos'è? Oh, mio Dio, l'uovo di tartaruga? L'uovo di tartaruga? Non ci posso credere, aspettate. Ah, deve crescere. No, ma io volevo vedere le tartarughe già da adesso. Ma no, ma dai, ma perché? Devo aspettare adesso. Ok, io aspetto, sperando che in 5 minuti cresca, perché se no lo dobbiamo rompere, lo dobbiamo togliere da questo mondo. Poi ho visto, oltre all'uovo di tartaruga, ho visto una cosa fighissima, un corallo, mi è sembrato... Sì, eccolo. Oh, guardate, ragazzi, i coralli! Oh, mio Dio, sono bellissimi! Ok, aspettate. Si possono mettere sott'acqua? Ma sono spettacolari! Ma non è che hanno aggiunto anche un nuovo bioma, la barriera corallina, perché se l'hanno aggiunta, ragazzi, io la devo andare a cercare per forza. Guardate quanto sono belli! Oh, mio Dio, sono super colorati e sono veramente, veramente bellissimi. E questo che cos'è? Un gondotto miscelanus? Che cos'è questa roba? Si mette sott'acqua pure questo? Ma cos'è? Illumina? Dopodiché, ragazzi, ci abbiamo finalmente l'elmetto della tartaruga, che questo l'avevo già visto, come vi dicevo, e ci abbiamo anche i secchi con i pesci. Oh, mio Dio! Questo che cos'è, invece? Kelp block. Ma, ragazzi, hanno aggiunto veramente tantissime cose fighissime. Hanno cambiato i colori dei letti. Proprio si vede, si nota. Dried kelp. Kelp? Che cos'è il kelp? Non ne sono sicuro, ragazzi. Non so cosa voglio dire kelp. Ah, è alga! Ok, ok, è un alga, ho capito. Aspetta. Si hanno aggiunto l'alga? E ci sono tanti altri tipi di pesci. Vuol dire che presto potremo craftare e mangiare il sushi? Su Minecraft? No, sarebbe una figata assurda! Oh, mio Dio! Speriamo che hanno aggiunto il sushi. Aspettate. Hanno aggiunto il sushi... No, non l'hanno aggiunto. Non l'hanno ancora aggiunto. Però ci abbiamo tutti... Tutte le alghe, come vedete. Ragazzi, guardate che bella! Oh, mio Dio! C'è l'alghetta. Poi ci abbiamo l'alga a blocco. E poi ci abbiamo l'alga asciutta. Oh, mio Dio! Ragazzi, se aggiungono il sushi su Minecraft io impazzisco. E sembrerebbe che questo sia tutto. Sì, abbiamo finito. Tranne... No, questa c'era già. Questa... Oh! Cos'è? Una pozione nuova? Cuore del mare. Che cos'è il cuore del mare? Mi sa che non fa niente. Non lo posso posizionare da nessuna parte. Non lo posso mangiare. Ok, poi... Non lo so. Credo sia un item per craftare allora a questo punto. Comunque, ragazzi. Allora, io direi di togliere immediatamente la game mode. Torniamo subito a casa nostra. No, prima devo togliere l'uovo di tartaruga perché sennò mi sto avvantaggiando. Quindi togliamolo. Mi dispiace tartarughina. Ma no, 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 no. Ti troverò. Prima o poi ti troverò perché adesso il mondo resterà in 1 punto... Ok, aspettate. Survival. D'ora in poi, ragazzi. Questo mondo sarà 1 punto 13. Quindi non lo faccio tornare all'1 punto 12. Giocheremo con l'1 punto 13. Non vedo veramente l'ora di trovare le tartaruga. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto questo video. È importantissimo dal vostro imperatore che andale tutto. Noi ci vediamo domani con un prossimo video.